buonasera a tutti grazie mille per averci raggiunto questa sera direi di attendere soltanto ancora un minuto per permettere a tutti i partecipanti di di seguirci grazie bene direi di iniziare con il contenuto ci tengo nuovamente a salutarvi tutti ringraziarvi per avermi raggiunta qua questa sera come potete vedere dal titolo stasera parleremo di titan il nostro prodotto di punta e di cui siamo produttori sviluppatori e ovviamente che distribuiamo sul territorio globale prima di iniziare giusto due informazioni di servizio laddove vi interessi approfondire alcuni temi o sollevare delle domande dei dubbi per esempio se ci sono tra gli ascoltatori anche dei già utilizzatori se avete necessità di approfondire dei temi che toccherò questa sera potete riferirvi sempre al bottone o della chat che trovate nella barra inferiore della schermata zoom oppure ancora meglio il bottone domande risposte questo mi permetterà poi alla fine della del contenuto di riprendere un pochettino tutti i temi aperti e instaurare una conversazione con con voi che mi state ascoltando per chi di voi non mi conoscesse già io sono un ingegnere biomedico sono martina e in titan mi occupo della direzione dell'area tecnica quindi l'ideazione lo sviluppo l'aggiornamento di tutti i prodotti che fanno parte della nostra gamma e questa sera come vi anticipavo poco fa vorrei raccontarvi un pochettino i presupposti ma anche e soprattutto gli ambiti di utilizzo del prodotto titan nel nostro elettromiografo di superficie prima di iniziare a parlare del prodotto vorrei spendere due parole sull'azienda che vi è alle spalle titan spa omonima rispetto al prodotto nasce nel 2015 come costola di un'azienda leader nel settore dell'analisi del movimento anzi delle strumentazioni per l'analisi del movimento ormai da più di trent'anni si chiama bts bioengineering spa il sistema di elettromiografia di superficie proprietario di bts veniva è sempre stato utilizzato per scopi fisioterapici ortopedici di ricerca universitaria e proprio qui nasce l'idea di testare questa tecnologia all'interno di un contesto odontoiatrico si è parlato tanto di elettromiografia di superficie in odontoiatria se ne parlava già negli anni 90 quando questa collaborazione è nata ma non si era mai riusciti a superare quelle che erano le limitazioni prevalentemente tecnologiche dietro questa questo strumento di misura non c'era ripetibilità non era possibile comparare gli esami e quindi il guizzo diciamo imprenditoriale nasce proprio dalla volontà di mettere a disposizione di della facoltà di odontoiatria dell'università di milano capitanata nel suo gruppo di ricerca dal professor virgilio ferruccio ferrario che magari alcuni di voi avranno avuto modo di conoscere anche personalmente nei corsi di formazione o proprio nel percorso accademico che avete affrontato appunto attraverso questa collaborazione il professor ferrario intraprende un'analisi e quindi va ad implementare un protocollo clinico di valutazione dell'equilibrio neuromuscolare dell'occlusione proprio attraverso la tecnologia bts diventa poi necessario visto che questo protocollo prende pietre diventa validato riconosciuto sempre più utilizzato all'interno di questi contesti allora ancora di natura a livello prototipo se così si può dire quello che diventa a questo punto fondamentale era incrementare e ottimizzare la tecnologia ma soprattutto costituire un'azienda che fosse dedicata alle esigenze di odontoiatra che come sapete benissimo sono sostanzialmente diverse da quelle degli altri ambiti sanitari che possono essere la fisioterapia possono essere l'ortopedia sebbene poi si correlino sempre all'interno della gestione del corpo umano questa partnership di cui vi ho parlato nasce da un'esigenza molto molto specifica io riporto un concetto che non ho bisogno sicuramente di spiegarvi o di approfondire ma cerco di sollevare il tema statistico quindi l'incidenza della problematica di malocclusione dentale così come ci viene riportata dagli enti più importanti su scala globale come l'organizzazione mondiale della sanità come sapete ogni volta che stringiamo i denti si realizza l'occlusione dentale e quando questa non avviene in allineamento tra l'arcata superiore e l'arcata inferiore ma se vogliamo parlare a più ampio livello tra mascella e mandibola questo disallineamento si ripercuote su funzioni che un paziente percepisce e senza le quali mi riferisco alla deglutizione alla fonazione alla respirazione alla masticazione per non parlare poi di postura onde incappare in disquisizioni su correlazioni non correlazioni non è questa certamente la sede per farlo al netto di tutte queste considerazioni l'impatto sulla qualità della vita di un paziente è estremamente alta basti pensare che prima del covide queste statistiche non sono state ancora aggiornate il che ci fa presupporre ci fa pensare che saranno quando lo saranno saranno definitivamente in negativo in europa l'incidenza della malocclusione dentale è pari al 72 per cento quindi sette dei pazienti che incontrate fatto 100 fatto 10 il numero che vedete in una settimana 7 su 10 incappano e vivono questo tipo di problematica a livello inconscio ma anche a livello più complesso con una sintomatologia estesa di questo fenomeno così multifattoriale così complesso così come dire esteso noi ci siamo sempre interessati di quello che è l'aspetto muscolare vi citavo prima la facoltà di odontoiatria della statale di milano che si è prodigata affinché anche la parte neuromuscolare dell'occlusione venisse considerata con un protocollo clinico che non porti via necessariamente tanto tempo che sia facile da anche capire quindi intellegibile ci siamo sempre focalizzati appunto sull'aspetto neuromuscolare quello che voglio farvi vedere con questo brevissimo video è quella che è la dinamica dell'apertura mandibolare e quanto i muscoli elevatori della mandibola siano sotto stress o come dire debbano attivarsi per produrre quello che è il movimento mandibolare se seguite questo breve video potete potete vedere quella che è l'azione dei principali muscoli elevatori della mandibola in questo caso temporale anteriore che si estende per consentire l'apertura mandibolare come fa il massetere invece con un'incerniratura molto più più bassa perché vi mostro questo video so che sapete benissimo a cosa mi sto riferendo perché quello che andremo a fare oggi è parlare di una tecnologia che vi permette di misurare proprio la funzione neuromuscolare del vostro paziente TITAN nasce quindi come strumento di misura per l'attività dei muscoli dei principali muscoli masticatori o elevatori della mandibola chiamateli come preferite con l'obiettivo di fornire delle informazioni molto semplici puntuali e facilmente intellegibili quindi intuitive per l'odontoiatra con l'obiettivo di darvi un asset in più di interpretazione del sistema paziente attraverso una variabile che non è misurabile in nessun altro modo è impossibile determinare la quantità di attività muscolare senza una strumentazione adeguata possiamo arrivare fino a un certo punto in termini qualitativi ma non c'è proprio un gancio oggettivo dietro questa misurazione allo stesso tempo la macchina è pensata anche oltre a supportare l'odontoiatra da un punto di vista clinico e quindi di miglioramento diagnostico di chiarezza quando ci sono delle condizioni un pochettino ibride o complesse da gestire allo stesso tempo questa tecnologia permette al paziente di capire cosa l'odontoiatra gli sta consigliando qual è il percorso terapeutico più adatto su quel paziente anche quando quel percorso terapeutico magari è invasivo magari è complesso magari non è per la conoscenza che il paziente ha non è la prima risposta che ci si aspettava ecco avere una strumentazione che misura un parametro non visibile permette con una refertazione chiara intellegibile che sono i nostri cardini principali di appoggiarvi a un numero a un'oggettività per raccontare quello che la vostra esperienza clinica vi aveva già fatto intuire nel 90 per cento dei casi oppure in quella piccola percentuale fumosa di un paziente particolarmente complesso che possa aiutarvi a scendere e a scegliere una strada più adatta per quel paziente specifico è ovvio quindi l'ho detto annegato nel mio discorso ma lo sottolineo fortemente questo non è uno strumento che si sostituisce in alcun modo alla vostra professionalità alla vostra esperienza sul campo alle vostre conoscenze cliniche è un sistema che vi accompagna fornendovi un pacchetto di informazioni altrimenti non misurabili come torno a ribadire per prendere una decisione più informata quindi più precisa prima di addentrarci in quelle che sono le caratteristiche del prodotto da un punto di vista tecnico ma senza annoiarvi troppo e poi soprattutto da un punto di vista di applicazione clinica vorrei spendere un brevissimo inciso per chiarire un concetto che negli anni in questi quasi dieci anni di società c'è stato talvolta sottolineato è un dubbio che può nascere TITAN non sostituisce in alcun modo la valutazione del tavolato clusale inteso come una cartina articolare o la sua versione digitalizzata TITAN completa questa informazione andando a corredare questa riflettazione se vogliamo chiamarla così con quella che è l'attività dei muscoli elevatori della mandibola dei muscoli masticatori quindi dei temporali anteriori e dei masseteri l'uso combinato di queste due strumentazioni permette di arrivare più rapidamente a quella che può essere la sorgente di alcune problematiche o magari faccio per dire lo vedremo nei casi clinici successivi del perché il paziente non stia rispondendo nella maniera in cui mi ero prefissato di fatto TITAN e le cartine articolari o ripeto la loro versione digitale sono due aspetti complementari dell'analisi del paziente e ci permettono di fare due cose diverse banalmente vedere anche come mai un muscolo viene reclutato in maniera eccessiva in relazione a quelli che possono essere tre contatti spine irritative eccetera avremo modo di parlarne più approfonditamente durante i casi clinici volendo passare al vero e proprio prodotto cercherò di non essere estremamente tecnica anche sia la mia natura come accennato all'inizio di questo webinar TITAN nasce come una collaborazione di fatto tra un'azienda medtech quindi specializzata in tecnologie biomedicali e la ricerca clinico-scientifica da guardia quindi qual è quale stato il mantra di questa collaborazione da un lato avere un presupposto clinico forte come può essere la valutazione neuromuscolare nel contesto della correzione della malocclusione ma dall'altro sviluppare un prodotto all'altezza di questo tipo di valutazione lo dico perché è importante perché è ovvio che l'idea clinica possa poteva essere giusta fin dal momento zero ma ci abbiamo messo sei generazioni di elettromiografi oggi comprerete vedrete userete e adotterete il terzo il sesto scusate elettromiografo tra le varie tipologie di elettronica e di design che abbiamo scelto perché è ovvio che il sistema paziente è un sistema altamente variabile è un sistema poco predicibile e affinché una macchina corregga questo tipo di informazioni serve serve veramente tanta avanguardia l'avanguardia oltre che raccontarvela ve la vorrei dimostrare e se vedete i punti che vi ho riportato in questa slide per quanto autoreferenziali possano essere sono punti che non si possono ottenere a livello di certificazioni di brevetti se quanto vi ho detto finora non fosse vero in particolare mi riferisco al primo fra tutti fatevi dire il brevetto per chi di voi appassionato di tecnologia per chi di voi magari ha conosciuto anche altre ditte produttirici di dispositivi biomedicali che sono la tipologia di dispositivo più complessa no da portare in superficie saprà che depositare un brevetto anzi accettare il deposito di un brevetto costituisce un'innovazione quindi vuol dire quel prodotto che è stato brevettato è stato riconosciuto come una vera e propria innovazione vuol dire aver dimostrato alle autorità competenti che il prodotto non era presente prima sul mercato vuoi per un'innovazione di natura meramente tecnica vuoi per un'innovazione in qualità di funzione d'uso come vi ho narrato all'inizio l'elettromiografia di superficie è sempre esistita è sempre esistita in tanti ambiti diversi con tante sfaccettature e scopi diversi l'elettromiografia in campo dontoiatrico è nata con il nostro brevetto in più ci sono altri fattori all'atere che hanno anche concorso l'ottenimento del brevetto possono essere il fatto di avere una macchina che è stata certificata come ripetibile quindi mole di letteratura che andava ad investigare se cambiando l'operatore che è l'ultimo punto che vedete i slide se cambiando se tenendo sempre lo stesso soggetto monitorato ma in giornate diverse in momenti psichici o psicologici diversi il dato cambiasse o seguisse un andamento anomalo tutta questa scienza che c'è dietro il prodotto è stata pubblicata e riconosciuta e indubbiamente ci ha permesso di arrivare dove siamo ora un altro tema che mi preme sicuramente dire è anche un discorso di provenienza di questo prodotto il nostro prodotto viene completamente prodotto in italia viene sviluppato in italia noi abbiamo come sede milano quindi siamo nel pienamente geolocalizzati all'interno del territorio italiano in tutte le nostre filiere ed è un tema secondo me importante specialmente in questo in questo momento storico cosa fa titan se dovessimo riassumere in pochissimi secondi che informazione vi restituisce e perché dovreste adottarlo nella vostra la vostra quotidianità titan vi permette di avere un'informazione chiara e semplice se i quattro muscoli masticatori temporali anteriori destro e sinistro massetere destro e sinistro stanno lavorando in maniera bilanciata oppure no sembra un'informazione banale ma non credo che lo sia e lo vedremo anche nei casi clinici perché il fatto di disporre in 15 secondi di test di questa informazione vi permette di avere un quadro certo se di fronte a voi si trova un paziente potenzialmente ipersensibile quindi uno di quei pazienti per i quali una minima modifica occlusale potrebbe scatenare reazioni avverse o un paziente che ha ancora davanti a sé un lungo serba un pieno serbatoio di fenomeni di compenso e quindi un paziente in grado di adattarsi a diverse occlusioni e quindi su cui ci si può permettere un grado di invasività nella modifica occlusale ben diverso questo è un po il succo del discorso attraverso tutto quella che è la tecnologia che c'è alle spalle tecnologie che vi mostro qua in questa in questa foto le sonde titano sono caratterizzate da due punti di raccolta di segnale diversi mi intendo dire che quando le posizionerete sul volto del vostro paziente le attività muscolare non verrà letta soltanto da un unico punto ma da due questo serve per farci fare un'operazione di correzione del segnale perché se vogliamo fare un passo indietro a livello fisiologico voi sapete che l'attività muscolare non è altro che attività elettrica che passa all'interno delle fibre ma l'attività elettrica purtroppo per fortuna non è presente solo nella muscolatura è presente nelle molecole ormonali nelle molecole più superficiali come possono essere il sudore il passaggio di sangue è carico elettricamente quindi avere la nostra invenzione tra virgolette innovativa è quella di andare a prendere il segnale in due punti diversi affinché fatta la differenza tutti questi errori biologici che non si possono evitare non finiscano nel vostro referto e quindi mi rifaccio un po al tema di ripetibilità affidabilità eccetera altri due componenti vi servono per utilizzare la macchina uno è una banalissima antenna lo vedete sulla sinistra dello schermo questo vi serve per fare in modo che il sistema funzioni superando quello che chi di voi magari ha usato l'elettromiografia di superficie ai tempi dell'università parlo prima del 96 per intenderci vi ricorderete sicuramente che l'elettromiografia era un groviglio di cavi che finivano sul sul ventre del paziente in una scatolina che poi andava tenuta e custodita in maniera particolare perché il movimento avrebbe potuto poi portare al distaccamento degli elettrodi eccetera questa antenna è il segreto per cui titan non ha cavi non ha tasti di accensione non ha nulla per cui il paziente o l'odontoiatra debbano preoccuparsi di rimanere fermi immobili in posizioni naturali o in una condizione di stress durante l'esecuzione dell'esame a destra invece vedete il caricatore che è un oggettino molto piccolo molto comodo che potete riporre di fatto dappertutto all'interno di quella che è la stanza del riunito vi faccio vedere brevissimamente ve lo commento rapidamente quello che è il il metodo di utilizzo di titan inteso come l'applicativo il software che ci sta dietro perché ve lo faccio vedere perché mi preme dare concretezza al tema del i dati si ottengono in maniera veloce si ottengono in maniera facile sono facilmente intellegibili anche se questo ultimo tassello lo vedremo molto meglio nei casi clinici il test titan l'avete visto nella copertina del video presuppone l'utilizzo di rulli salivari perché il nostro test il protocollo POC come il professor ferrario lo ha sempre chiamato presuppone il confronto tra una prova in massima intercuspidazione su rulli salivari tra il primo e il secondo premolare come posizionamento e il confronto con una successiva prova di occlusione naturale oppure di occlusione su protesi occlusione su bite su dispositivo orale su mascherina ortodontica quello che volete qual è il presupposto clinico ci interessa valutare come cambia l'attività muscolare quando c'è un'interferenza tale da spegnere i contatti dentali ovvero i rulli di cotone e quando invece i contatti dentali vengono riaccesi lasciamo perdere che poi i contatti dentali siano come dire esogeni cioè un manufatto protesico oppure ancora naturali fare il confronto tra queste due prove ci mostra come i muscoli verranno subiranno o non un cambiamento nella loro strategia di attivazione di conseguenza avremo un'indicazione su quella che è lo stato di salute dell'equilibrio neuromuscolare del nostro paziente riprendendo il video come vedete viene inserita l'antenna le sonde si accendono in maniera magnetica quindi come ripeto non ci sono tasti di accensione una volta fissi i gel in elettro di a gel si pongono le sonde sul viso del paziente si fa il test di calibrazione come lo chiamiamo noi quindi i porrulli salivari che ci dà di fatto poi la baseline no al valore zero a cui riferirci facciamo fare un serramento in massima intercospitazione invece su denti naturali in questo caso e andiamo a a valutare come cambia la strategia muscolare preferisco farvi vedere più nel concreto questo aspetto quando parleremo dei casi clinici in protesi bite e ortodanzia ed ecco proprio qua che entriamo nel vivo di questo questo discorso in particolare è ovvio noi siamo io personalmente sono di parte a livello ingegneristico di valutazione del paziente dal mio punto di vista non ci si può esimere dal valutare uno degli aspetti che concorrono no alla chiusura all'apertura e al movimento più in generale mandibolare io nella mia forma mentis ragiono con tutti gli aspetti che concorrono a questo tipo di fenomeno andrebbero quantificati per avere quantomeno una cognizione di quello che potrebbe o non succedere al paziente in riferimento al percorso terapeutico però se vogliamo dare dei punti di attenzione su dove titan di fatto costituisce un asset quasi imprescindibile questi saranno il trattamento protesico più o meno esteso più è esteso e più sentirete il bisogno di valutare la condizione muscolare bite qui in trattamento con bite e ortodonzia parliamo di trattamento protesico i carichi imposti sull'articolazione temporomandibolare da parte della muscolatura in particolare dei muscoli elevatori della mandibola quando non è ben bilanciato oppure quando non non è possibile conoscerli a priori potrebbero creare delle problematiche a lungo termine cosa intendo intendo che essendo il manufatto protesico un elemento esterno che deve essere accettato da dal sistema biologico di cui farà parte in questo caso l'occlusione va da sé che questo manufatto debba essere dimensionato con tutte le tecniche morfologiche anatomiche di dimensionamento che già conoscete affinché però poi la funzione non subisca variazioni per cui avere la muscolatura a favore e non contro permette di andare a ottimizzare e funzionalizzare il trattamento protesico invece che raccontarlo in maniera teorica vi faccio vedere quali sono i punti del vostro workflow in cui inserire titan di fatto senza variazioni significative partiamo dallo studio del caso che muscolatura sto trovando su questo paziente quando mi arriva la poltrona mi riferisco magari anche a casi come possono essere ho fatto un all on four da un tuo collega non mi trovo bene non riesco a non sono comodo non riesco a masticare non ho più l'apertura mandibolare di prima penso di aver bisogno di cambiare il manufatto ho estremizzato un esempio ovviamente che però immagino vi sia capitato almeno l'esperienza dei nostri clienti ci racconta che capita più spesso di quel che si creda per cui lo studio del caso o prima visita se vogliamo usare un termino più colloquiale permette di inquadrare la condizione del paziente prima di iniziare qualsiasi trattamento oppure di certificare la condizione muscolare di un paziente a valle di un trattamento eseguito da un altro collega la progettazione del caso la consegna del provvisorio sono quelle due fasi che potrebbero essere benissimo anche contingenti in cui chiaro l'obiettivo clinico del trattamento titan permette di testare diverse modifiche occlusali o in maniera più invasiva possibile la nuova occlusione affinché il manufatto provvisorio rispecchi la condizione clinica che volevamo ottenere durante la varia le varie progettazioni nella consegna del definitivo titan serve per vedere che da provvisorio a definitivo non sia cambiato quell'outcome clinico che c'eravamo prefissati di raggiungere il follow up periodico immaginerete serve a valutare la stabilità del del trattamento attraverso titan vi voglio raccontare un caso che si rifà a non a caso prima citavo manufatti realizzati da altri colleghi eccetera vi presento un caso della dottoressa rosaria rappa che ci è stato raccontato in occasione di webinar e che trovate anche nel nostro sito web è un caso molto interessante perché nella sua complessità è molto semplice anche per chi come me non è non è odontillatra non passa il proprio tempo alla poltrona è facile da comprendere perché è un'esperienza molto come dire molto concreta ed è questa un paziente che si presenta in regime di pronto soccorso nello studio della dottoressa a seguito di una frattura della protesi totale a sopporto osteomucoso realizzata poco poco più di due settimane prima la paziente si era già rivolta all'autore della protesi che però non l'aveva accolta perché la paziente come potrete immaginare con dei toni probabilmente anche molto accesi sosteneva che la frattura derivasse dalla masticazione di una foglia l'insalata ve l'ho detto in maniera romanzata ma di fatto lei si stava riferendo proprio a una rottura durante senza fratture pregresse o visibili dall'esterno durante la masticazione di un piatto di insalata la nostra utilizzatrice ovviamente prende in carico il la paziente e crede anche a questa se volete ragione anamnestica no di frattura e va a sincerarsi di due temi principalmente uno che se vogliamo è più di natura morfologica è più di natura anche di dimensionamento della protesi al netto della componente neuromuscolare che è il concetto di resilienza poiché questa protesi veniva contrapposta a una dentatura naturale sottostante era evidente che ci fosse un fenomeno di era evidente che andasse considerato in fase di progettazione un fenomeno di instabilità dovuto proprio alla resilienza che era necessario mettere in atto per contrastare un supporto stomucoso superiore a una a una dentatura fissa invece inferiore quello che va a fare la nostra utilizzatrice è valutare come la muscolatura stava lavorando su questa occlusione no quindi sopporto stomucoso sopra e dentatura naturale sotto quello che andiamo a vedere è il risultato che vedete in questa slide seguite il mio cursore ci tengo che vi soffermiate innanzitutto su questo numero 68 cerchiato di rosso questo dovete immaginarlo come un vero e proprio semaforo è uno score globale come ci piace chiamarlo che vi descrive la qualità dell'equilibrio neuromuscolare del vostro paziente il rosso indica una completa difformità dai valori della norma noi abbiamo condotto tantissimi studi sono 30 anni ormai facciamo ricerca su questi temi e sappiamo come dovrebbe essere nelle condizioni del nostro test clinico quindi massima intercospitazione prima su rulli e poi senza sappiamo come dovrebbe essere il valore su un paziente sano o perlomeno abbiamo un range di valori che un paziente sano dovrebbe assumere per cui fatta un fatto un manufatto protesico se questo è realizzato in conformità a chi lo deve ospitare quindi al sistema neuromuscolare tra le altre cose di questo paziente ci aspetteremmo che l'esito sia positivo in realtà questo indice globale già ci denota una problematica il paziente non è in equilibrio neuromuscolare se poi spostiamo l'attenzione su questo grafico che non è nient'altro che una rappresentazione virtuale del tavolato occlusale andiamo a vedere che in rosa il punto di scarico di forza dei masseteri e in azzurro il punto di scarico di forza dei temporali anteriori è completamente anteriorizzato quindi presa la linea orizzontale di mediana diciamo la linea di equilibrio noi vorremmo che i target fossero leggermente arretrati questo perché perché noi vorremmo che i carichi che la nostra dentatura vuole ricevere debba ricevere siano più spostati verso quegli elementi dentali strutturati per ricevere un determinato carico come può essere l'area premolare l'area molare il fatto di avere un riversamento del carico quindi un carico occlusale completamente anteriorizzato poteva già far presagire che la protesi avrebbe subito uno stress tale che già come dire instabile da un punto di vista di resilienza di contrapposizione con un'arcata naturale fissa sotto poteva far già presagire che andava strutturata in maniera più robusta magari in maniera anteriore oppure come dire rinforzata sui settori posteriori ed è per questo infatti che la nostra utilizzatrice decide proprio di perseguire quella strada cioè andare ad aumentare i contatti posteriori per ridistribuire le forze e auspicabilmente salvo eccezioni per esempio disfunzionali andare a valutare che questo baricentro e quindi questo centro di scarico della forza arretri se vedete nella schermata sulla sinistra vi ho mantenuto ancora come reminder la situazione della paziente al momento di presentazione insomma alla poltrona della nostra utilizzatrice mentre a destra il risultato ottenuto dalle modifiche occlusali svolte con l'obiettivo di posteriorizzare il carico l'esito di questo caso clinico è abbastanza scontato la protesi è rimasta lì dove era in fratture non se non se ne sono registrate la paziente non è più tornata in nessuno dei due studi se non per i controlli periodici e l'igiene quindi titanin protesi se la se fosse stato utilizzato in questo caso fin dall'origine avrebbe evidenziato che questa è una paziente con una muscolatura che per un motivo o per un altro tende a riversare i propri effetti sulla sezione anteriore dell'occlusione avere questa informazione prima ripete insieme al discorso della resilienza avrebbe indubbiamente ridotto no quelli che possono essere i rischi di shipping frattura ed evitamento in caso in altre casistiche in più aggiungo il secondo tema funzionalizzare il manufatto protesico la postilla del anche quando realizzato in altri studi è calzante in questo tipo di caso clinico ed è comunque importante no far sì che non si possano creare confusioni su ciò che è di vostra pertinenza o ciò che pertiene invece a trattamenti esibiti in passato infine aumentare la consapevolezza del paziente l'abbiamo messa in una maniera abbastanza come dire generica in realtà in questo caso clinico che abbiamo mostrato stiamo parlando di una cosa ancora più grave se vogliamo e ancora più importante la paziente ci aveva preso fin dall'inizio cioè il cibo fibroso era stata effettivamente la causa della frattura nella misura in cui una protesi già sottoposta a continui stress accoppiata a un cibo più complesso da demolire come quello come i cibi fibrosi effettivamente poteva essere una ragione no di compromissione del manufatto stesso questo sicuramente sarà un caso particolare come dire non perfettamente comune tuttavia il fatto di avere un referto scritto che non solo all'odontoiatra ha permesso di inquadrare una problematica ma anche dato ragione in questo particolare caso intendo alla paziente e l'ha fatta sentire di fatto confortata e non come dire giudicata in maniera approssimativa ha permesso sicuramente un diverso grado di fiducia da parte della della paziente nei riguardi dell'odontoiatra passiamo al tema del bite il bite come sapete benissimo è un tipo di dispositivo orale che generalmente nella maggioranza dei casi ovviamente non mi interessa andare nei casi particolari viene utilizzato quando è necessario distogliere la mandibola da una posizione viziata dalla masticazione il caso che vi voglio mostrare oggi ve lo anticipo perché mi serve un pochettino per raccontarvi anche questo workflow che vedete il caso che vi presento oggi narra proprio quello è l'emblema secondo me di quel momento in cui prendere una decisione sul corso del trattamento da perseguire in alcuni pazienti potrebbe essere più complesso rispetto all'esperienza clinica vissuta vi potrebbe esporre a passi falsi o a tentativi non che non ripagherebbero immediatamente quindi disporre di uno strumento che dice in questo caso la strada sta andando un po più in discesa oppure in questo caso la condizione del paziente non sta accettando la il tipo di trattamento importantissimo specialmente nella costruzione di un bite che come sapete ha mille sfaccettature diverse ci sono mille metodiche per costruire un bite ce ne sono i tipi diversissimi ognuno col suo scopo diverso ognuno più fedele a una scuola di pensiero piuttosto che un'altra titan serve a prescindere da queste differenze perché anche qui vediamo lo studio del caso la prima visita forse mi rifaccio a a un tema che ho esposto in precedenza lo studio del caso avere perfetta cognizione di ciò che il paziente rappresenta e di come il paziente in maniera naturale si comporta a livello lembromuscolare permette di anticipare eventuali criticità che si potrebbero sviluppare a balle nel trattamento durante progettazione e consegna del bite e anche qui potrebbero essere contingenti se l'obiettivo è sgravare la mandibola da un determinato carico e quindi l'articolazione temporomandibolare potrebbe valer la pena capire antetempo quali sono i carichi eclusali anche qui in gioco e titan entra in gioco sempre nello stesso nello stesso modo il follow up periodico servirà poi per valutare gli effetti della terapia con con bite il caso che vi presento come vi dicevo prima è un caso di un paziente disfunzionale come vedete qui oltre a una seconda classe destra e a un morso coperto già diagnosticata la problematica di incoordinazione discocondilare sia cronica che asintomatica questa condizione dovete anche collocarla in un momento storico particolare come era quello del primo lockdown del marzo 2020 quindi era era anche complessa la gestione proprio del paziente e qui il nostro utilizzatore il dottor andrea ghizulic ci presenta una strategia secondo me interessantissima e anche non così farraginosa da implementare che noi abbiamo rassunto perché ovviamente era un webinar costituivo un webinar in sé per sé a livello di prima visita la paziente si presenta con una condizione neuromuscolare accoppiata agli elementi clinici di cui abbiamo parlato poco fa estremamente complessa seguite sempre il mio cursore anche qui torniamo al discorso del semaforo dello sport globale punteggio insufficiente quindi una qualità dell'equilibrio neuromuscolare scarsissima e anche qui la presenza di un riversamento del carico imposto dalla muscolatura tutto anteriorizzato perché è così grave questa anteriorizzazione dei baricentri se ragionate insieme a me sapendo che il temporale anteriore come muscolo ha un punto di inserzione molto avanzato circonda il condilo avere invece il massetere a un punto di inserzione più arretrato vuol dire in buona sostanza che la scienza ci dice i muscoli temporali anteriori andranno a riversare il proprio carico sulla sezione anteriore della bocca mentre i masseteri sulla sezione posteriore se la muscolatura in equilibrio questo fenomeno non determina particolari criticità ma se non è in equilibrio può accadere che specialmente quando il la condizione è più anteriorizzata che posteriorizzata quindi il temporale è quello che lavora di più rispetto ai cugini masseteri questa condizione può determinare un'infiammazione condilare a lungo termine e questa problematica va evitata a tutti i cosi è per questo che un baricentro anteriorizzato quindi questi due target rosa e blu in maniera anteriorizzata non ci piacciono mai anche perché la letteratura ci dice che fatto 100 l'attivazione muscolare dei due temporali anteriori e dei due masseteri un paziente sano per il 55 per cento sfrutta i masseteri per il 45 i temporali tornando a noi la l'altro fenomeno che destra sospetto è la presenza di questa freccettina che vedete sui target rosa e blu questa freccettina non è altro che l'indicatore di un fenomeno chiamato torsione o per chi si intende bifisica momento torcente non è nient'altro che un nome tecnico per definire la quantità di instabilità del morso del vostro paziente intendo dire che portando in chiusura la mandibola i contatti dovrebbero essere come dire progressivi e omogenei quando questo non avviene quindi c'è anche se un termine improprio un precontatto ok una disomogeneità nel modo in cui la mandibola si chiude a livello anche di contatti questo vuol dire che i muscoli non stanno estendendosi in maniera sincrona e coordinata questo è il fenomeno da torsione che poi può avere una direzione perché sicuramente i muscoli che non lavorano in maniera coordinata sono uno o due dei quattro secondo il nostro utilizzatore a livello clinico il fenomeno torsionale qui era la più grande sfida da risolvere quindi optare per un byte in questo caso particolare era fuori discussione entra invece in gioco la discussione su e quale byte faccio quale metodologia tra quelle di cui dispongo o tra quelle su cui sono confidente utilizzare ecco che a questo punto entra in gioco il confronto tra diverse placche tenendo sempre fissa la prima visita a sinistra in modo da valutare benissimo com'è l'evoluzione del trattamento facciamo immediatamente un test con una placca parziale e andiamo a vedere che anche se lo score globale migliora e rientra nella norma perché è verde come il semaforo quindi abbiamo il via libera ciò nonostante i target che arretrano se vedete non sono più così anteriorizzati ma sono tendono un pochino di più al posteriore persistono con la presenza della freccia quindi indicatore di un'istabilità del morso di un effetto torsionale scusate passiamo ora la placca di michigan la placca di michigan dimostra rispetto alla placca parziale un peggioramento dello score globale una continuità se vogliamo dire così della posteriorizzazione del baricentro ma persiste ancora il fenomeno torsionale a questo punto il nostro utilizzatore sceglie di proseguire con un ultimo tentativo su un altro dispositivo l'ortotico di jenkelson a questo punto su questa determinata paziente andando a confrontare la prima visita con l'ortotico di jenkelson tra l'altro se non ricordo male non era ancora neanche stato finalizzato l'ortotico di jenkelson mostra non solo un ripristino dell'intero equilibrio neuromuscolare attraverso questo score globale che vi attenzione ma soprattutto risolve l'outcome clinico che l'utilizzatore si era preso posto non voglio avere fenomeni torsionali su un paziente che già ha un problema disco condilare di conseguenza in questo per questo paziente specifico l'opzione è l'ortotico di jenkelson non mi interessa entrare nel merito di quali di questi dispositivi orali sia il migliore o meno sapete che io non sono lontoiatra ma ho assorbito come dire l'esperienza di chi utilizza la nostra macchina per cui non sarei neanche in grado di sostenere questo genere di di confronto ma quello che mi preme sottolineare è che da un lato così facendo e vi assicuro che non è una tempistica molto più lunga di quello che fareste a prescindere il trattamento è stato personalizzato sulla base non solo delle esigenze del paziente ma su una numerica su una quantificazione del suo sistema neuromuscolare su cui diversamente non potreste assolutamente fare alcun tipo di considerazione perché non potete misurarlo allo stesso tempo un discorso un pochettino più non voglio usare il termine commerciale ma un discorso sicuramente più relativo a quello che è il rapporto tra l'odontoiatra e il paziente diventa far sì che la mia offerta clinica non sia un'offerta clinica industrializzata da catena low cost bensì un'offerta che metta il paziente al centro per concludere la sezione diciamo delle funzioni d'uso parliamo di ortodonzia qui è doveroso fare un brevissimo disclaimer va da sé che quando si parla di riallineare degli elementi dentali durante l'effettivo periodo di riallineamento l'utilizzo di titan lascia un po' il tempo che trova mi spiego meglio il sistema neuromuscolare di un paziente che subisce un'ortodonzia è ovvio che vada che rincorra la nuova occlusione la nuova posizione per cui durante immagino l'utilizzo di mascherine l'utilizzo di titan denoterà degli squilibri che sono intrinsechi però al trattamento quindi non sono non vanno sempre considerati come delle cose negative non è vero invece come vedremo nel caso successivo che non possa servire laddove durante il percorso ortodontico ci siano delle brutte sorprese nel mezzo e mi rifaccio un po' a quello che è il tema della sensibilità del paziente no prima di iniziare un trattamento anche qui il workflow qual è la premessa che ho fatto poco fa vi non dovrebbe avervi preparati al fatto che in questo caso durante il trattamento ortodontico non non abbiamo messo nessun intervento titan perché perché innanzitutto come ho detto anche in in altri insomma su altri temi avere l'informazione su come titan possa essere utilizzato a livello di valutazione ok della condizione del paziente ci permette di evitare tutti quei casi in cui un paziente si presenta la poltrona troppo debole o non predisposto a un trattamento ortodontico perché questo potrebbe vuoi per il riallineamento vuoi per delle considerazioni in cui non entro nel merito risvegliare delle spine irritative che erano già lì semplicemente rimanendo tutto fermo non potevamo non avevano modo di destarsi nella progettazione del caso titan può essere utile perché anche nel in un discorso di mascherina ortodontica magari invisibile su determinati tipi di occlusioni un po particolari potrebbe valer la pena non accettare la proposta o la simulazione in maniera automatica ma intervenire per far sì che ripeto sempre nel caso dell'allineatore ma perché è il caso più calzante questo venga costruito tenendo già in considerazione che questo paziente non può assolutamente subire sovraccarichi in una determinata area perché già ce li ha di natura no oppure nella progettazione del caso potrebbe darsi che si debba predisporre un pre trattamento ortodontico perché ci sono problematiche più prioritarie da sistemare prima di passare al riallineamento degli elementi dentali il certificato di fine trattamento abbiamo scelto la parola certificato perché vogliamo stressare il tema che specialmente quando si parla di estetica specialmente pazienti adulti l'ortodonzia se fatta per queste ragioni non deve in alcun modo intaccare la funzionalità del sistema paziente per cui uno strumento come titan che referta la presenza o meno di equilibrio neuromuscolare vi serve esattamente a archiviare un'informazione sulla stabilità funzionale pre e post trattamento e infine il follow up periodico il caso che vi presento come vi ho anticipato prima è un caso che riguarda un paziente adulto che si sottopone ortodonzia per ragioni estetiche che presenta un affollamento inferiore e una prima classe molare canina oltre ad un morso profondo cosa succede il nostro utilizzatore il dottor daniele scarpa che saluto ci racconta che durante questo trattamento con allineatore durante l'utilizzo della quarta mascherina il paziente torna alla poltrona in maniera diciamo inaspettata perché si sono svegliati dei dolori muscolari diffusi che ne compromettono diciamo la qualità della vita a livello proprio di operatività quotidiana il nostro utilizzatore decide di ha un'idea di lui parte da un'ipotesi cioè la sua esperienza clinica bastava per ipotizzare che ci fosse una determinata problematica ma quel tipo avventurarsi lungo quella strada senza alcun tipo di oggettività di numericità rimaneva complesso nella misura in cui per far capire al paziente qual era la vera necessità l'esame tritan viene vi dimostra due aspetti importanti il primo non c'è un buon equilibrio neuromuscolare non siamo in una condizione disastrata come quelle che avete visto poco fa ma non non possiamo stare tranquilli se maforo verde non c'è quindi dovremmo fermarci se la nostra velocità lo consente i due target rosa per i masseteri e blu per i temporali come vedete sono anteriorizzati noi vorremmo che fossero in queste aree verdi in realtà si trovano più avanti rispetto a queste aree e già questo comincia a essere un elemento importante se vi ricordate parlavamo di un affollamento inferiore ok quindi non ho la radiografia ma fidatevi di me della zona anteriore il fatto che la muscolatura riversasse del carico proprio lì era già un po complicato no era già un'informazione importante da avere in più vediamo queste maledette frecce ancora come nel caso del bike che vi ho mostrato prima questo questa unione di considerazioni ci porta alla conclusione che qui c'è un tema di instabilità del morso quindi non è comodo questo paziente con questo tipo di occlusione c'è qualcosa una spina irritativa che lo sta portando a riversare tutto il carico in avanti l'ipotesi clinica del nostro utilizzatore era non vorrei che in quell'affollamento ci sia qualcosa che ha una micro frattura che nel momento in cui io con l'ortodonsia cerco di riallineare fa scaturire dei dolori tanto più che Tita mi dice di porre attenzione al settore anteriore perché ho visto che il baricentro sta tutto lì che c'è un'instabilità del morso perché ho visto quella freccettina del fenomeno torsionale facciamo una lastra approfondita vediamo cosa trovo lì sotto microfattura dell'elemento 4.6 se non ricordo male la decisione in questo caso dell'odontoiatra è stata la di optare per la rimozione come vedete a valle ovviamente dopo tutto il processo di guarigione attesi i tempi clinici necessari l'esame Tita confrontato con quello al momento dell'insorgenza della sintomatologia al cambio della quarta mascherina dimostra non solo come torna a ribadire un ripristino dell'equilibrio neuromuscolare ma anche un'assenza del fenomeno torsionale quindi questo paziente torna ad essere comodo il caso finisce con una conclusione positiva dell'ortodonzia con tutte le mascherine che erano state programmate e senza particolari complessità successive è ovvio che traiamo la conclusione che anche qui la muscolatura se è dalla nostra parte ci permette di capire da un lato che tipo di paziente abbiamo davanti quanto sensibile sarà se non era sensibile all'inizio ma lo è diventato nel mentre perché come in questo caso c'era una sfina irritativa che probabilmente era lì già da un po' ma finché rimane tutto in stasi non si fa vedere andare immediatamente a capire come correggere questo aspetto vi lascio nel mentre che ribadisco alcuni concetti le parole e le testimonianze di tre nostri utilizzatori che magari alcuni di voi conoscono anche professore alessandro nanussi di milano il dottor stefano montagna di parma e dottor alessandro beraldi ctu del tribunale di milano sono nostri utilizzatori da tantissimo tempo non li definiamo nostri amici perché ovviamente sono ci hanno ci hanno sostenuto e criticato in maniera davvero oggettiva e impagabile da un punto di vista scientifico e clinico e sono testimoni di un utilizzo quotidiano della macchina e i loro pazienti voglio dire ne sono la dimostrazione al cento per cento a questo punto visto che il contenuto come dire didattico sta volgendo al termine vi rinnovo la possibilità di pormi domande dubbi o curiosità attraverso il bottone domande risposte che trovate nella barra inferiore del vostro della vostra schermata zoom io rimango a vostra disposizione per per approfondire questi temi ancora qualche minuto così se c'è una bella discussione da far nascere sono qua apposta diversamente per chi di voi non avesse ancora il nostro dispositivo volesse avere delle informazioni particolari ma soprattutto volesse vederlo dal vivo e magari provarlo e toccare con mano alcuni degli argomenti che abbiamo affrontato oggi vi chiedo di prendere il vostro telefono inquadrare con la vostra fotocamera il QR code che vedete sullo schermo in modo da poterci lasciare i vostri recapiti dove preferite essere contattati e il nostro rappresentante di zona potrà fissare con voi un appuntamento per una dimostrazione dal vivo io vi rinnovo la mia disponibilità a intavolare una discussione o ad approfondire alcuni temi ripeto o in chat se preferite oppure col bottone domande risposte e altrimenti vi ringrazio di cuore di essere stati con me ho visto che siete stati sempre presenti e per chi di voi non lo fosse ancora vi auguro di diventare presto parte della community item perché è il nostro orgoglio le 1300 cliniche partner sono davvero nostro orgoglio per chi invece già ne fa parte quindi è parte delle 1300 i miei più cari ringraziamenti e mi auguro che traiate un po' della soddisfazione che trago io nel parlare di questo prodotto vedo che è arrivato qualcosa vediamo allora il dottor Roberto Longo che saluto ci pone una domanda che secondo me è molto 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 interessante ed è ed è questa lui è il nostro già utilizzatore ci chiede visto avendo fatto l'esame più volte nella stessa seduta senza però variare l'occlusione del paziente la macchina emette risultati diversi questo mi dà lo spunto per fare una considerazione importante perché abbiamo parlato fino adesso di ripetibilità e dati scientifici a suffragio di questa cosa però qui c'è un tema molto diverso che è la duplice vorrei dire innanzitutto c'è un tema tecnico ma so benissimo che non è il caso particolare del dottore che ci pone la questione però lo dico per il resto delle persone che ci ascoltano il test viene sempre fatto in relazione a una calibrazione quindi all'utilizzo di rulli salivari come avete sentito dire poco fa va da sé che se dal momento in cui viene fatta la calibrazione al momento in cui si ripetono test diversi se vengono spostate le sonde staccate le attaccate o magari uno ci prende contro e per qualche scuro motivo e si disassano o se la calibrazione viene rifatta essendo la calibrazione il nostro punto zero il risultato varirà significativamente quindi il consiglio che noi diamo ripeto magari esula dalla domanda del nostro utilizzatore ma lo dico per il resto delle persone che ci ascoltano il consiglio è nel momento in cui eseguiamo una calibrazione all'inizio della visita quella deve rimanere la nostra costante e poi gli esami verranno rifatti sopra quella stessa calibrazione in modo da comparare no eventuali modifiche occlusali o comunque anche i cambiamenti stessi del paziente sulla base dello stesso punto zero che è la prima calibrazione che abbiamo fatto l'altro tema che vorrei suggerire è questo spesse volte specialmente pazienti che hanno spine irritative non so se può essere questo il caso o pazienti che i disfunzionali ne sono veramente l'emblema il paziente diventa cosciente del modo in cui serra perché gli chiediamo di serrare con forza e se c'è presenza di spina irritativa o riflesso nocicettivo la volta successiva in cui chiederemo di serrare sposterà il carico consapevolmente in una condizione che lo rende più comodo e questo andrà a cambiare il modo in cui uscirà il referto qual è la soluzione a questo problema la soluzione più importante più facile è quella di far ripetere più volte quindi rieseguire in prima rifare la calibrazione ok quindi tralasciare la prima il primo esame fatto rifare una calibrazione senza salvarla semplicemente facendo fare tre serramenti consecutivi al paziente perché dico questo perché se il paziente sta vivendo un momento di discomfort una spina irritativa gli sta causando una propria eccezione che lo devia dall'occlusione naturale se facciamo fare tre serramenti consecutivi che non inducono fatica generalmente a meno che si parli di disfunzionali gravissimi vedremo come chi è già cliente lo sa benissimo le nostre grafici a torta che danno un'anteprima del dell'utilizzo neuromuscolare le vedremo cambiare in continuazione se questo è il caso e si può testare velocemente con con la calibrazione o con un test fasullo allora è necessario che il paziente che si chieda al paziente di ripristinare come con il testo il reset occlusale di Messerman per chi lo conosce o banalmente alzarsi un attimo da riunito fare due passi risedersi e ricominciare perché questo generalmente l'indicatore di un'istabilità da parte del paziente se invece ci sono problemi di diversa natura ovviamente possiamo anche si può anche ipotizzare un una problematica diversa però questo si parla di magari utilizzatori che per anni anni e anni sforzano la macchina per tanto tempo ma il mio suggerimento rimane quello quindi di fare una simulazione attraverso la calibrazione tre serramenti da cinque secondi consecutivi e valutare l'anteprima del diagramma torta se c'è un pattern che varia tantissimo questo è indicatore di un paziente instabile a cui bisognerà chiedere di resettare il morso attraverso ripeto o due passi intorno al riunito oppure un qualche movimento mandibolare di reset un'altra domanda che è arrivata mi chiede che tipo di informazioni si possono dare all'odontoiatri cioè odontoiatri che si possono ottenere in caso di impact alto e basso allora per chi di voi non conoscesse titan o il nostro referto l'indice impact è quell'indice che ci restituisce l'intensità dell'attivazione di tutti e quattro i muscoli masticatori visto che noi eseguiamo il test in una maniera controllata nel senso che non facciamo un gesto naturale ma facciamo un gesto controllato in un ambiente protetto l'impact si correla a tre informazioni principali allora quando l'impact è superiore al duecento per cento e vi trovate di fronte un paziente che non è uno sportivo professionista questo indice diventa un indicatore di fattori di rischio per le problematiche di bruxismo quindi voi immagino sappiate come dire è importante che voi abbiate sempre in in considerazione il fatto che sapete che c'è un consenso sulla diagnosi per esempio appunto del bruxismo nella sua appendice a se non vado errata si cita l'elettromiografia di superficie non è il nostro impact non è il fattore diagnostico dell'impact ma è un fattore di rischio del bruxismo scusate ma è un fattore di rischio quindi il primo utilizzo è questo quando vedo un duecento per cento o superiore su un paziente normale quindi con una un fisico normale che non fa di mestiere lo sportivo e quindi non ha una muscolatura particolarmente forte l'impact si correla a questa informazione se no si correla ad altre due informazioni la dimensione verticale quindi quando abbiamo una muscolatura ben bilanciata ma su un manufatto protesico o su altri tipi di di interventi vediamo che l'impact è troppo alto troppo basso probabilmente l'altezza di questo manufatto va ad incidere su quanto la muscolatura è capace di esprimere energia perché perché ovviamente se un manufatto è molto molto alto la muscolatura non deve estendersi troppo perché ci sia contatto dentale e di conseguenza lavorerà poco se invece il manufatto ha una dimensione verticale bassa questo vuol dire che prima che la mandibola le due arcate scusate si tocchino il muscolo avrà dovuto estendersi parecchio e quindi funzionare tanto ergo spendere tanta energia questo però faccio una premessa questa correlazione è importante valutarla quando l'equilibrio muscolare è presente perché se ovviamente il baricentro è decentrato per cui è più posteriore più più anteriore o c'è una lateralità nell'attivazione muscolare tutta questa correlazione non è prioritaria prima è prioritario ripristinare l'equilibrio la terza informazione che vi volevo dare sull'impact invece riguarda quello che è il discorso delle spine nocicettive voi sapete che nel momento in cui c'è una presenza di dolori scusate se c'è la presenza di una spina irritativa a livello di riflesso nocicettivo neurale il cervello il sistema nervoso centrale comanderà la muscolatura di non investire energia perché se lo facesse il dolore arriverebbe alla propria eccezione per cui un impact molto molto basso con una dimensione verticale morfologicamente accettata un'anatomia corretta o su una dentatura naturale dove la dimensione verticale come dire è sempre stata accettata a livello biologico allora l'impatto troppo basso è indicatore della presenza di un sistema di una spina irritativa qui io direi cartine articolari giusto per smarcare quello che può essere la sporcizia su un contatto o un precontatto proprio in un'area specifica che desta destra problematiche vedo che si è instaurata una un bellissimo scambio sul tema di cui parlavamo prima no ripetibilità del risultato versus un referto che mi dà l'idea vari su esami successivi sullo stesso paziente innanzitutto il suggerimento che fa il dottor Longo interessantissimo usare titan con paziente scalzo ed in piedi o evitare errori sicuramente allora noi abbiamo condotto uno studio che vi posso anche mandare anche se ancora grezzo che attesta che di fatto non ci sono variazioni sul referto se il paziente in piedi seduto o steso sul riunito quindi leggermente inclinato col busto questo perché perché i muscoli masticatori nella loro intensità e per come li andiamo a valutare noi non risentono del della posizione articolare della catena del tronco della catena cervicale per cui il discorso di farlo in piedi potrebbe sicuramente essere una strada nel momento in cui effettivamente si pone il caso precedente cioè se il mio paziente in quella posizione è in grado di serrare in maniera diversa siccome sente che tocca prima a sinistra per sicurezza al secondo esame tocca di più a destra la calibrazione rimane la stessa vedremo oscillare i referti quindi sì sicuramente posso essere d'accordo sul tema di evitare che ci siano interferenze non di natura meramente posturale ma proprio interferenze coscienti da parte del paziente e quello che ci la discussione che era nata che è in realtà è una domanda che faccio io al dottor Longus è a piacere di rispondere un altro utilizzatore un'altra sì penso sia utilizzatore o comunque un altro odontoiatra che ci segue ci chiede ma ha trovato poi delle soluzioni nel senso ha notato che magari mettendo il paziente appunto in piedi e scalzo questo tipo di deviazione dal risultato normale diminuisce quindi la sensibilità del paziente diminuisce oppure ha avuto magari altri insight che vuole condividere con noi ecco se avete piacere di condividere poi ovviamente posso anche se avete piacere posso anche mettervi in contatto assolutamente non è un problema se volete confrontarvi su questo tema se ci sono altre domande io le accolgo molto 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 volentieri diversamente siccome sono andata un po' fuori i tempi ma mi fa piacere vedervi ancora tutti qua vi libero per la serata sperando possiate godervela il più possibile direi che se non ci sono altre domande possiamo salutarci qua vi lascio giusto un po' di tempo ancora per polmonarle bene direi che per questa sera è tutto vi ringrazio per essere rimasti con me tutto questo tempo e per chi ancora non lo fosse spero di vedervi presto all'interno della nostra community buona serata a presto buona serata a presto buona serata a presto buona serata a presto buona serata a presto